All'inizio non è stato facile perché comunque passare da un settore giovanile alla prima squadra ho notato che non è affatto semplice per i ritmi, per tutti i compagni e quindi all'inizio magari ho trovato un po' di difficoltà però ora mi sto ambientando benissimo. Una volta che riusciamo ad andare in vantaggio e a mettere a sicuro la partita dobbiamo continuare sul pezzo per tutti i 90 minuti rimanendo sempre concentrati e non mollare mai. Il mio ruolo principale è davanti alla difesa però posso giocare anche a mezz'ala. Un allenatore molto bravo che riesce a lavorare molto bene con i giovani soprattutto dà molti consigli quindi penso sia una buona cosa soprattutto per me. Lui vuole che i centrocampisti costruiscano molto il gioco quindi tutte le palle devono passare dal centrocampo e ci chiede di impostare l'azione dal basso. Sì siamo una squadra molto competitiva che punta a tornare in A quindi è normale che ci sia molta concorrenza in ogni ruolo non solo nel mio però sto lavorando bene mi sto allenando. E questo non mi spaventa? No 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 non mi spaventa perché l'importante è lavorare bene per migliorarsi e prima o dopo la possibilità ti arriva. Sì ho fatto, sono stato all'Inter è stata un'esperienza molto importante per me perché ho sempre imparato molto ogni anno dagli allenatori, dallo staff e da tutti. Nell'ultimo anno guardavo spesso Gagliardini quando mi allenavo in prima squadra spesso guardavo lui, i suoi movimenti, come giocava lui.